Confronti di Bordin, ci sono le proteste da parte di Troitski che viene ammonito, episodio da rivedere. Sul cross di Pecchia c'è stata una trattenuta in aria, ha protestato il capitano dello sconto riga, è andato giù Bordin. E dunque calcio di rigore in favore del Napoli, ventinovesimo del primo tempo. Dal dischetto Carbone contro l'Aizzanza, il destro di Carbone angolatissimo e il Napoli è in vantaggio. Il gol di Benito Carbone, ancora lui per il Napoli. Carbone che aveva segnato, il gol è partita contro la Reggiana, rivediamo angolatissimo il rasoterra di Carbone. Giancarlo Tomassetti ci ripropone, anche da un'altra angolazione, molta freddezza, assoluta la precisione, niente da fare per l'Aizzanz che pure aveva intuito l'angolo. Nel palmarès del Napoli due scudetti, tre Coppe Italia, una Coppa UEFA, la stagione 88-89. Una Supercoppa italiana. Poi a completare, nel quadro, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese, intanto c'è il gol, raddoppia. Carbone che esulta. Ancora lui, tre minuti e 45 secondi. E lui il match winner. Carbone. Gesto rabbioso di Lai-Zanz. Napoli due, sconto riga zero, Buso. Sempre presente, approvato, in scivolata la conclusione, Carbone sorprendendo il portiere dello sconto riga. Vediamo un altro replay. Gol inventato da Carbone su questo assist di Buso. Grazie. Grazie.